Buongiorno cari amici di Sorrento Channel.tv e Peninsa.tv Ci sta un incendio in corso, località scaricatoio, zona di Cheguenza Come potete vedere dal fumo sta alle spalle della montagna di Vicalvano Ci stiamo recando sul posto per vedere cosa è successo e vari aggiornamenti Buongiorno cari amici di Sorrento Channel.tv e Peninsa.tv Ci troviamo sotto l'incendio che sta colpendo adesso la Centro Sant'Re in località Portigliano Stiamo proprio sotto le fiamme, vedete? Le prime telecamere ad arrivare sono quelle di Peninsa.tv e Sorrento Channel.tv Inizia a fare caldo Ecco, osservando il primo soccorso è arrivato adesso Come potete vedere l'incendio si sta allargando C'è vento e fa molto caldo Siamo qui Qui sul posto con la protezione civile di Piana di Sorrento e la protezione civile di Positani Stiamo aspettando altri soccorsi, anche l'elicottero se fosse possibile Come potete vedere l'incendio si sta espandendo Come potete vedere l'incendio si sta all'incendio si sta all'incendio si sta all'incendio si sta all'incendio di Positani Come potete vedere l'incendio si sta all'incendio si sta all'incendio si sta all'incendio di Positani Come potete vedere l'incendio si sta all'incendio? Come potete vedere l'incendio si sta all'incendio? Come potete vedere l'incendio si sta all'incendio?